Conosci i tuoi campioni, la scheda del tuo idolo. Il concetto di bomber implacabile è perfino riduttivo per definire le abilità realizzative di Gunnar Nordahl. Nato in Svezia nel 1921, comincia a giocare in patria segnando valanghe di gol, sia nei club che con la nazionale, con la quale vince l'oro olimpico a Londra nel 48. Nel gennaio del 49, Nordahl viene acquistato dal Milan e realizza subito 16 gol in 15 partite. Nelle successive sette stagioni continua a segnare a raffica, sfruttando il fisico potente ma allo stesso tempo scattante. Con il Milan, del quale diventa anche capitano, vince due scudetti, una coppa latina e cinque titoli di capo cannoniere, insieme ai connazionali Gren e Lidlm, con i quali forma il celebre trio Greno-Li. Nordahl chiude la carriera con la Roma e realizzando in totale 225 reti in Serie A, alla straordinaria media di 0,77 gol a partita. Muore di infarto ad Alghero nel settembre del 95.